Ci troviamo a Beata Vergine delle Cabrinoidi, in Austrazia. Un uomo sta ammirando lo splendido paesaggio ricco di fenitotteri. Una specie tipica della zona. Ciò che vi stiamo per mostrare ha dell'impensabile. L'uomo, distratto dal panorama, cozza contro la porta. Il disastro si consuma in pochi secondi, ma per fortuna l'uomo è sano e salvo.